200 persone per ascoltare nell'open house dell'editore Diego Guida aperta a fine dicembre a Via Bisignano i motivi per cui restare e vivere a Napoli si può e si deve. Tra i tanti invitati lo scrittore Maurizio De Giovanni, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, l'assessore alle politiche giovanili Alessandra Clemente per celebrare uno spazio che resiste ed esiste nonostante la chiusura dei maggiori editori librai napoletani. La mattina organizzata dall'associazione Viva a Napoli è servita soprattutto per aprire uno spazio alla cittadinanza e alle istituzioni come spiegano il presidente Emilia Leonetti e il consigliere dell'associazione Diego Guida. Vorremmo lavorare con le istituzioni per ragionare su come creare il sistema e quindi sul metodo di lavoro che bisognerebbe utilizzare per raggiungere questo obiettivo importante e che è quello di fare della cultura un sistema di sviluppo. Il compito principale di un editore è quello di riuscire ad esaltare le realtà locali ma soprattutto quelle che sono gli stimoli culturali dai quali potere poi eventualmente evidentemente costruire un percorso, un percorso di crescita forse nel caso specifico sarebbe più corretto dire di rinascita ma insomma di dimostrazione quantomeno di una realtà intellettuale, culturale che la città può e deve rappresentare. Napoli nel mondo come capofila di una cultura che non c'è più. Proprio per questo parlare di fuga dei cervelli risulta anacronistico lontano da una realtà che invece vuole la cultura napoletana proiettata nel mondo, come spiega l'attore Andrea Renzi tra gli ospiti della Saletta. Tutti i grandi spostamenti degli intellettuali secondo me o delle persone dell'arte non hanno portato che bene. La questione credo che sia quella di fare in modo che anche la nostra città riscopra la sua forza attrattiva. A intrattenere il pubblico un dialogo tra la presidente Emilia Leonetti e l'attore premio Oscar Tony Servillo che di ritorno da un tour europeo con le voci di dentro di Edoardo De Filippo parla proprio del teatro napoletano. I titoli di Edoardo sono degli straordinari slogan pare dettati direttamente da una battuta di un attore, questi fantasmi, Napoli Minionaria, le voci di dentro, non ti pago. I titoli di Viviani sono luoghi popolari della città, Anderra Magolatella, pescatori, a feste mondo vergine.